Imparare a leggere le etichette ci consente di essere più consapevoli negli acquisti che noi facciamo, soprattutto, anzi solo ed esclusivamente, quando andiamo al supermercato e compriamo alimenti processati, alimenti industriali, alimenti confezionati. Il ritmo della vita moderna, diceva Ernesto Calindri all'epoca del Cinar, ci impone di avere accesso immediato a cibi già pronti, a cibi appunto precotti o comunque già fatti, dove è sufficiente aprire una busta per mangiare la bresaola, la fesa di pollo, la fesa di tacchino, scaldare una zuppa già pronta e quant'altro. Due sono, diciamo, i più grandi nemici dai quali dobbiamo stare attenti. Il sale e lo zucchero. Il sale è un elemento che si utilizza come conservante. È uno dei conservanti naturali più utilizzati nell'industria alimentare. Basti pensare che una confezione di bresaola da 80 grammi, quindi una porzione, contiene il triplo della quota giornaliera di sale che un individuo dovrebbe assumere per prevenire le malattie cardiovascolari come l'ipertensione. Quindi, quando noi compriamo 80 grammi di bresaola, stiamo mangiando 4 grammi di sale, quindi tre volte la quantità consigliata al giorno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi noi compriamo la bresaola perché è una proteina poco grassa, però mangiamo badilate di sale, quindi ritenzione idrica e cellulite, ad esempio. Ma la cosa peggiore è lo zucchero, perché lo zucchero nascosto soprattutto crea dipendenza a livello cerebrale. Perché le aziende utilizzano lo zucchero? Per anche nascondere l'utilizzo di alimenti di scarsa qualità e quindi additivano l'alimento principale con lo zucchero. Proviamo a immaginare le salse di pomodoro con un pomodoro di scarsa qualità, quindi acido, viene reso perfettamente palatabile grazie all'aggiunta di zucchero. Quindi dove noi troviamo lo zucchero? Lo troviamo nelle fette biscottate, lo troviamo nei cornflakes, lo troviamo nel pane, lo troviamo negli yogurt, nei succhi di frutta, nei burger di soia, nelle patate fritte, negli snack salati, nella carne. Quando voi comprate l'hamburger dal supermercato c'è lo zucchero. È assurdo, no? Ma quanti tipi di zucchero ci sono? Il saccarosio è il classico zucchero da cucina. Poi c'è il fruttosio, che è lo zucchero della frutta. Il lattosio è lo zucchero delle proteine del latte. Poi c'è destrosio, maltosio. Sono altre forme, diciamo, dal punto di vista chimico, che rappresentano lo zucchero. Quindi quando noi leggiamo, per esempio, no? Sciroppo d'uva, succo d'uva. Pensiamo, no? A qualcosa di più naturale rispetto al saccarosio, ma è sempre zucchero. E teniamo conto che quando noi leggiamo un'etichetta, la prima voce rappresenta la maggior quantità all'interno di quell'alimento che noi stiamo mangiando di quel, diciamo, nome citato. Esempio. Se io compro una marmellata dove nella prima voce c'è scritto zucchero, vuol dire che più del 50% del prodotto che sto acquistando è composto da zucchero. Se io compro un altro tipo di prodotto dove c'è scritto il brodo granulare, dove c'è scritto come prima voce sale, vuol dire che io sto comprando più del 50% di quel prodotto di sale, poi tutti gli altri. Per non parlare di tutte le sigle E, con tutta una serie di sigle, che sono rappresentate da tutti gli additivi, da tutti i conservanti. Ma fermiamoci a parlare dello zucchero oggi. Quindi sorbitolo, manitolo, acesulfame, saccarina, xilitolo, sciroppo d'agave, malto d'orzo e lo zucchero, galattosio, eccetera, eccetera. Cosa succede quando noi, senza saperlo, Noi prendiamo i cornflakes che pensiamo siano fiocchi di mais. Dentro, se leggete, ci sono ben due zuccheri additivati. Noi, come ripeto sempre, viviamo in un'epoca obesogena dove le industrie alimentari ci rendono schiavi di questi prodotti proprio perché sono additivati dallo zucchero, da edulcoranti, che sono sempre zucchero, da insaporitori, da renderci dipendenti dall'idea di quel particolare alimento che ci dà soddisfazione. Quando noi diamo i cornflakes ai nostri figli al mattino a colazione, pensiamo che stiamo facendo un'azione migliore rispetto alla classica merendina ricoperta con la glassa di cioccolato. In parte è vero, ma non abbiamo risolto il problema perché nei cornflakes c'è lo zucchero. Ci sono diversi tipi di zucchero e creano una sorta di dipendenza psicologica nei confronti di quell'alimento specifico. La stessa cosa, come vi ho detto più volte, è che l'utilizzo, ad esempio, dei coloranti attraverso i nitriti e i nitrati rende molto più appetibile alla vista una fetta di prosciutto cotto rosa che nel suo, invece, essere naturale sarebbe di un marro bruciato, sarebbe del colore dell'arrosto che noi facciamo. E probabilmente in vaschetta noi non lo compreremmo mai perché è di difficile, no? È ripugnante, mentre una bella fetta rosa e lo esaltano perché è ben rosa e perché vengono utilizzati degli additivi. Il problema qual è? Che molti si trincerano, si censurano, si barricano dietro al fatto che siccome le industrie alimentari sono controllate dall'EFSA, dall'ente di controllo in quanto hanno passato i controlli, possano essere venduti. Ripeto, questo non vuol dire che se io mangio i cornflakes mi viene il cancro. Questo vuol dire che io devo essere consapevole che sto mangiando un alimento che ha all'interno lo zucchero. Quindi significa che se io ogni giorno mangio quell'alimento a colazione sto mettendo, sto creando una sorta di dipendenza nei confronti di quel prodotto che io in maniera ignara non capisco perché, ma è perché allo zucchero. Ad esempio, tutti questi zuccheri nascosti sono dannosissimi per le donne, soprattutto quelle che soffrono di endometriosi perché è stato studiato come una massiccia quantità di zucchero, ripeto, nascosto negli alimenti, favorisca e peggiori quel tipo di patologia, ma tante altre ancora. Quindi nei succhi di frutta, ad esempio, quando voi date i succhi di frutta ai vostri figli, ci sono nei risotti in busta, nei piselli in scatola, nella carne in gelatina, nei secondi pronti, nelle bevante al ginseng, nei tortellini di carne, nei cornetti salati, nel pane in cassetta, nel pesto pronto, o ovunque. Si tratta soltanto di leggere e scoprirli. Poi, se noi siamo obbligati o non ce ne frega niente e vogliamo continuare ad acquistarli, però quantomeno dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Quindi non lamentiamoci se io mangio ogni giorno bresaola in salatina e ho la ritenzione idrica. Certo, stai mangiando una quantità di sale incredibile ed è per questo che sviluppi ritenzione idrica a cellulite. Ma io cerco di mangiare bene e non capisco come mai ogni anno aumento di qualche chilo. Ma io sono in menopausa, la menopausa no. E perché mangiate male e non siete consapevoli di quello che state mettendo nel vostro piatto. Cercate di mangiare prodotti quanto più freschi possibili, anche se vi costa qualche minuto in più per la preparazione. Mangiate in maniera semplice, cuocete il meno possibile, non tutti i cibi, ma quelli che è possibile mangiare quanto meno cotti in ogni caso e cercate di pensare alla vostra salute. Estate Perfetta è il protocollo che è appena uscito. Due mesi di protocollo che ti insegnano l'educazione alimentare, la libertà alimentare insieme a un videocorso di allenamento con gli elastici e a tre ore di videocorso sull'autostima ti consentiranno di capire come devi alimentarti e arrivare alla soglia dell'estate in una forma mai raggiunta. Clicca sul link che trovi e ci vediamo dentro.